Fortitudo nella storia. Violando uno dei tempi del basket siciliano e nazionale, il palailio di Trapani, il roster agrigentino, entra di diritto nella storia della pallacanestro. Un santo Stefano di lusso per gli amanti e gli sportivi agrigentini, con il quintetto di Franco Ciani che ha sbancato il parquet trapanese battendo 94-86 dopo un tempo supplementare il Conad Trapani. Per i ragazzi di Ciani la quinta volta di fila e vale il primo posto provvisorio con Scafati, ma non solo, con il successo la squadra agrigentina ottiene la qualificazione alla Fana Light di Coppa Italia. Traguardi molto importanti che testimoniano una volta di più la bontà del lavoro svolto fino a qui dalle compagine biancazzurra che ha codotto per quasi tutta la gara al palaconad rischiando di sciupare tutto nell'ultimo minuto del tempo regolamentare prima di gestire con personalità il tempo supplementare. Sicuramente, ha dichiarato Franco Ciani, è stata una partita equilibrata, tirata punto a punto, con grande fisicità e intensità da parte delle due squadre. La nostra bravura è stata probabilmente quella di abbassare i ritmi della partita, tenerla sui 70 punti. Se avessimo lasciato Trapani correre e giocare secondo le sue cadenze abituali, noi avremmo fatto fatica, per cui siamo stati molto bravi a mettere le briglie a loro, magari rinunciando anche a qualcosa in termini di inventiva. Negli ultimi minuti del tempo regolamentare abbiamo commesso qualche sciocchezza con scarsa lucidità e loro sono stati bravi ad agganciare la partita. Credo che poi la nostra intensità difensiva e la capacità di avere la tranquillità di allargare il campo ed andare in lunetta ci ha consentito di portare a termine questa autentica battaglia di straordinario livello. Quanto agli obiettivi, il coach ha precisato che sono quelli di migliorare la posizione ottenuta l'anno scorso in stagione regolare.